Buongiorno a tutti ragazzi, come state? Spero tutto bene. Oggi parliamo un pochettino di calcio mercato inerente alla Juventus. E voi potreste pensare, ma come? Non è un po' presto? Sì, assolutamente sì, anche se quello di gennaio in realtà la Juventus dovrà monitorarlo per forza di cose perché le squalifiche di Pogba e di Fagioli sono state abbastanza toste, anche solo dal punto di vista prettamente numerico. Però parliamo di calcio mercato relativo a quelli che sono i calciatori della Juve. I calciatori all'interno della rosa della Juventus. Perché la Juve si sta già muovendo un po' dal punto di vista dei rinnovi di contratto. Ne abbiamo già parlato nelle settimane scorse. C'è stato quello di Gatti, ufficializzato dalla Juventus fino al 2028. La Juve si sta monitorando per il rinnovo di Fagioli. Si parla addirittura di un rinnovo di Sule. Abbiamo già discusso un pochettino queste tematiche nei giorni scorsi. E a quanto pare la Juve sta ragionando anche su altri binari. Allora, leggevo stamattina che Vlaovic avrebbe a partire dall'anno prossimo uno stipendio innalzato a 12 milioni di euro. Ora, non so se questa cosa è vera oppure falsa. Mi auguro che non sia così perché la Juve non può andare nella direzione di andare a pagare così tanto un calciatore in questo momento storico. Mi sembra anche strano nel caso che la Juventus abbia inserito una clausola di questo tipo all'interno del contratto. Questo potrebbe spiegare però la volontà della Juventus quest'estate di andare a cedere a Dujan Vlaovic. Vedremo se sarà così oppure no. Sicuramente la Juve si sta muovendo nella direzione di limare un pochettino questa distanza, magari rinnovando il contratto a Vlaovic e annullando questa clausola. Sicuramente la Juve oggi non può permettersi qualcosa di questo tipo. Avevamo già parlato anche dei rinnovi di Rugani e di Rabiot nelle puntate precedenti. Per un motivo, Rabiot e Rugani scadono al 30 giugno 2024 e quindi la Juve dovrà cercare di capire che cosa fare con questi giocatori. E se Rugani avevamo detto che poteva rimanere la Juventus con l'ingaggio spalmato, perché è un ingaggio veramente importante, superiore ai 3 milioni di euro, ecco che invece quello di Rabiot potrebbe essere proprio ammortizzato in una maniera vera e propria, perché sicuramente anche l'ingaggio di Rabiot è ingombrante. Quest'estate è stato fatto un rinnovo annuale che sinceramente ho compreso poco. Se poi la Juventus dovesse andare a rinnovare Rabiot per più anni con un ingaggio ribassato, potrebbe essere una soluzione interessante, anche se io dal canto mio andrei sinceramente su altri profili, perché comunque Rabiot ha già fatto il suo N alla Juventus, è stato pagato tanto, anche se è stato un parametro zero, anche se per modo di dire, perché poi i parametri zero sappiamo bene che con le commissioni sono sempre delle spese vere e proprie messe a bilancio e quindi io sinceramente andrei su un altro tipo di profilo. Poi magari la Juventus vorrà rimanere su Rabiot e tutto questo, io non lo so, però sicuramente stanno iniziando a imbastire il discorso. Però la Juve non può focalizzarsi soltanto sui giocatori in scadenza 2024, è ovvio che quelli in scadenza 2024 tra un mese potrebbero firmare liberamente con un'altra squadra e tra questi c'è anche Alexandro, che ormai sembra un desaparecido, ma è comunque un giocatore nella rosa della Juventus ed è uno dei giocatori con lo stipendio più alto nella rosa della Juventus che l'anno scorso ha rinnovato per via di una clausola, no? Una clausola automatica di rinnovo automatico. E io spero che l'avventura di Alexandro la Juve possa considerarsi conclusa, proprio me lo auguro con tutto il cuore. Però tra quelli in scadenza 2025, secondo me, c'è da fare un bel ragionamento. Tanto perché 2025 scadono Scesni per Impinsoglio. Scesni per Impinsoglio, che sembra un ritornello, ma è il blocco dei tre portieri. Quindi la Juventus che cosa vorrà fare? Andare avanti con Scesni perché comunque quella del portiere è una figura che anche con un'età media superiore rispetto ai giocatori di movimento si può andare avanti o vorrà cercare di andare a prendere un prospetto? Non lo so, io in questi anni ho sentito tanti giovani portieri associati alla Juventus. Poi per un motivo o per un altro, o per un motivo tecnico, o magari per un motivo economico. Cioè che il cartellino era valutato un po' troppo rispetto a quella che era l'idea della Juve. Si è lasciato perdere e si è andati avanti con Scesni, che ha sempre assicurato delle prestazioni comunque di livello. Io credo che quest'anno, a parte i due brutti errori a Reggio Emilia, poi nelle ultime partite abbia chiuso la porta e in tutte le volte che abbiamo avuto quell'una o due occasioni degli avversari, Scesni ha risposto presente e ci ha tenuto in vita. Mi viene in mente la parata a Shujiru a San Siro, mi viene in mente la parata su Bonastoli l'altro giorno allo Stadium, me ne vengono in mente con l'Atalanta. Insomma, ci sono stati tanti interventi di Scesni di livello, poi ovvio che la Juve dovrà iniziare a ragionare. E poi ci sono dei giocatori, magari come De Sciglio, che in questo momento è infortunato, quindi non credo che l'Eventus vorrà andare a rinnovare ulteriormente De Sciglio, già qualche anno fa aveva avuto un rinnovo di tre anni De Sciglio, un giocatore che andava in scadenza perché era appena arrivato a Allegri e voleva confermare De Sciglio che è uno dei suoi pupilli. Ma soprattutto, secondo me, la Juventus dovrebbe andare a ragionare su altri giocatori che sono scadenza 2025, sono giocatori più o meno importanti. Vabbè, intanto Danilo, che ha rinnovato da poco, sì, l'anno scorso, però il 2025 è dietro l'angolo, è dietro l'angolo. È dato che in questo momento sento parlare dei rinnovi magari di Vlaovic per spalmare, di Locatelli che dovrebbe andare fino al 2028, ma scade nel 2026. Ho sentito parlare di tanti rinnovi di contratto, anche di Bremer, un giocatore che è arrivato soltanto l'anno scorso, sempre per spalmare il contratto, e capisco dal punto di vista finanziario, però se perdi Danilo è un po' più un problema, secondo me è dato che scade nel 2025. Quindi sei da qui a un anno e sei nella situazione che entro un mese può già firmare per un'altra squadra. C'è Ealing, c'è Ealing, soprattutto Ealing, che se anche lo dai in prestito a gennaio, e questo scade nel 2025, quindi o lo fai rinnovare o è un problema. Cioè Ealing rischia di diventare un problema per la Juventus per tempistiche relative al contratto. Pensarci molto bene. C'è Moise Ken, che è stato riscattato quest'estate dalla Juventus. Nel bilancio della Juventus, Locatelli e Ken sono andati quest'estate dei bilanci impegnativi, perché Ken è stato riscattato a una cifra molto elevata. Scade nel 2025. Cosa vogliamo fare con Ken, che in questo momento, dal punto di vista fisico, è in una forma straripante. Ma che cosa vogliamo fare con Ken? Attenzione, ragioniamoci. E poi c'è Federico Chiesa. Mi sembra il nome più grande della lista. Chiesa scade nel 2025 e anche qui hanno iniziato i discorsi relativi al rinnovo di contratto. Speriamo che si possa trovare un'intesa, perché quello di Chiesa è stato anche un argomento caldo di quest'estate, ricorderete. Secondo me lì, messo un po' in giro dalla Juventus, si stava sondando la disponibilità di altri club ad affondare per Chiesa, vedere quanto erano disposti ad offrire. Poi non se n'è fatto niente. Infatti si è concluso tutto in nulla di fatto. Però adesso diventa un argomento, un trend topic. Bisogna farlo adesso, no? Bisogna capire adesso quello che si vuole fare con Chiesa. E c'è un altro giocatore anche, ragazzi, che fino a quest'estate magari potevo vedere in un modo e che adesso invece vedo in un altro modo. Ed è McKennie. Perché anche lui scade nel 2025. Quindi su McKennie cosa vuol fare la Juve? Vuole trattenerlo perché lo considero una pedina importante, un titolare che può occupare più posizioni del 3-5-2, come stiamo vedendo in questo video di stagione, o è il giocatore che a gennaio, se arriva all'offerta, parte ancora una volta come è stato l'anno scorso? Perché su McKennie c'è un po' di confusione. Già che negli ultimi anni abbiamo gestito alcuni profili in maniera boh, mi basti pensare a Rovella, mi basti pensare a Zaccaria, mi basti pensare a McKennie che inserisco in questa lista, perché un giocatore che oggi è un titolare inamovibile della Juve che occupa più posizioni e che sei mesi fa era andato via con obbligo di riscatto, cioè pendiamo più dalla parte tecnica, pendiamo più dalla parte economica, perché io capisco che la Juve debba dare un occhio alla parte economica, però in questo momento specifico la Juve sta attendendo un aumento di capitale da 200 milioni. Quindi bisogna capire in che direzione andare, perché voi direte, sì, è 30 giugno 2025, ne manca un anno e mezzo, passa in fretta, passa in fretta e soprattutto ogni momento che passa, il 30 giugno 2025 diventa una sorta di arma per i calciatori, perché se tu arrivi quest'estate a parlare con Ealing, che magari è scontento e vuole andare via, gli propone il rinnovo di contratto, lui ti dice, sai che cosa? Io sto qui un altro anno, tra sei mesi mi scelgo a zero, la squadra in cui andare a giocare e mi faccio un altro anno così, oppure punto i piedi per andarmene e far abbassare il prezzo, perché poi te ti ritrovi con un giocatore a un anno dalla scadenza, quindi stiamo molto attenti, stiamo molto attenti con questi giocatori scadenza 2025, perché se quelli 2024, la Juve sì, Alexandro fa lo stesso, Rugani vediamo, e Rabiot parliamone, 2025 ha i portieri, Chiesa, il Capitano, Ealing, McKennie, Ken, sono tutti giocatori che sono stati degli investimenti per la Juve negli ultimi anni, quindi presterei particolare attenzione anche a questa tematica, perché la Juve sta comunque cercando di rinnovare quanti più giocatori possibili, no? Fagioli, Gatti, Locatelli, Bremer, sono quelli di cui stiamo parlando sulle stesso, quindi significa che la Juve è convinta di avere una squadra con un'ossatura importante per il futuro a cui aggiungere qualcosa, perché sennò semplicemente questi giocatori non li andrebbero a rinnovare e semplicemente direbbe va bene andate a scadenza e ce ne liberemo a parametro a zero. Vediamo un po' che cosa succede, ma stiamo attenti a questi giocatori perché sennò li perdiamo, e perderli a gratis un po' mi darebbe fastidio.